5 febbraio 2012 oggi venenzia quasi meno 4 vedete questa calle qui vedi questo qua c'è pochissima gente perché panna c'è chiusa invece ecco qui che spettacolo ora che roba cominciando da stavera da pozzo fantastica guardate la colonna che bella fantastica questa è un po' rovinata però vedete in cui voi fate giri questo è il nome della corte campiello regniero guardate che posti se volete mangiare cicchetti veneziani bisogna venire qui soprattutto il venerdì e il sabato sera che è pieno di gente guardate questa scala vedete il solito leone simbolo di venezia abbiamo messo un cancello anni fa non c'era vedete va fin su e poi anche questa colonna dove siamo ecco qui vedete prima ero lì dove c'è quella barca bianca eccola lì su quella passarella lì ero qua questo è il palazzo tribunale di venezia e qua guardate che fantastica questa immagine qui col ponte di rialto c'è questa pure una società delle miera che va a fatica è uno sport che si è freddo però muovendo tutti i muscoli non hai freddissimo è il campanile di san portolo ecco quello è un sandoletto vedete che non ha il pettine che vi dicevo il ferro che ha sulla prova questi qua non ce l'hanno e sono un po' più piccoli comunque sempre belli ecco la barca dove lavoro io questa qui verde era lì ecco la Kay passo